per dare la gestione delle riserve di caccia anche alle associazioni ambientaliste oppure agli enti locali, quindi la Regione. I referendum riguardano anche lo smaltimento dei rifiuti? Sì, il tema dei rifiuti è un tema molto importante. Attualmente la Regione può dislocare discariche e inceneritori nel territorio regionale da autorità. Noi non siamo contro le discariche e gli inceneritori, ovviamente, però ci vuole un parere vincolante degli enti locali, un parere delle USL e in più una valutazione di impatto ambientale, perché è ovvio che discariche e inceneritori si possono fare, ma non dovunque e in ogni caso, sentendo anche le popolazioni, rispettando i piani regolatori del Comune e delle province. Non sarà troppa carne al fuoco? Sì, sono sei quesiti, ma purtroppo in Italia con lo strumento del referendum non si può andare con un tema alla volta. Noi preferiremo sottoporre agli elettori e ai cittadini un tema alla volta e su quello avere informazione, discutere a favore o contro. Purtroppo sappiamo che molte volte i referendum vengono cancellati, cioè non si ricepiscono la volontà dei promotori, ma per evitare la votazione si fanno delle leggi che non vanno nel senso voluto dai promotori. Quindi dobbiamo presentare pacchetti con la speranza che almeno su due o tre quesiti si vada a votare. Dove si può firmare a Trieste? A Trieste si può firmare praticamente tutti i giorni della settimana in Via delle Torri. Noi siamo lì dalle 16.30 alle 19.30, con l'eccezione del venerdì che siamo in Piazza della Borsa. Io farei un appello a tutti quelli che hanno votato sì ai referendum nazionali di firmare immediatamente.